Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Ieri al Tata Steel 2021 c'è stato il giorno di riposo, ma il torneo sta entrando nel vivo e nel video di oggi vedremo la seconda decisiva partita giocata due giorni fa all'ottavo turno. L'indiano Arikrisna con il bianco contro Alireza Firuja col nero in una partita importantissima per la classifica dove usciranno fuori anche delle importanti idee strategiche. Partiamo. Arikrisna apre la partita con D4 e Firuja risponde con D5. C4, C6, quindi siamo nella slava. C per D5 è la variante di cambio, ora naturalmente si riprende col pedone. Alfieri in F4 non è la continuazione principale ma una mossa che ci fa capire l'importanza in questo tipo di posizione di portare fuori gli Alfieri dalla catena pedonale. Quindi Alfieri in F4, cavallo in C6, arriva E3 e anche Firuja ha la stessa idea, quella di attivare l'alfiere. Quindi Alfieri in F5, Alfieri in B5 attacca ed inchioda il cavallo sul re e qui arriva E6. Alla sesta mossa la partita è già originale. Ora si potrebbe pensare anche di cambiare l'alfiere sul cavallo per creare un pedone arretrato, ma giustamente Ari Crisina non lo farà perché è ancora un po' troppo presto. Perché quando si crea questa debolezza bisogna anche poi poterla attaccare. Andiamo a vedere che succede se il bianco gioca al fiere e cattura in C6 ottenuto con scacco. Naturalmente il pedone B ricattura. Ora la manovra per bloccare questa debolezza e poi attaccarla è quella, probabilmente, quella più semplice è quella di portare il cavallo in C5, ma ottenuto il cavallo dovrà anche essere ben protetto dalla torre in C1 e vedete ancora ci vogliano troppi tempi per creare questo forte setup, sicuramente il nero avrà l'opportunità di spingere in C5 al momento opportuno. Quindi ritornando a noi arriva E6, cavallo in C3, però vedete che i pezzi si stanno portando nella posizione desiderata e quindi Firuja continua con cavallo in G che va in E7. Quindi non si creerà più al limite il pedone arretrato, ma sarà il cavallo a riprendere. Torre in C1, arriva anche a C6 perché qui si vuole scacciare l'alfiere. L'alfiere torna indietro in E2 e arriva anche a F6. Mossa coraggiosa che vorrà garantirsi una futura spinta al centro con E5 e qui arriva G4. L'alfiere sotto attacco si sposta in G6, il cavallo viene sviluppato in F3, l'alfiere torna anche indietro in F7 e qui l'idea è quella di lasciare libera questa casa G6 per il salto del cavallo a disturbare l'alfiere. Quindi per questo motivo Arikrisna porta subito indietro l'alfiere e qui arriva H5. Ora H5 minaccia di catturare e quindi l'indiano gioca G5. Cavallo in G6, ora questo è un punto abbastanza importante perché qui Arikrisna dovrebbe giocare subito H4 per bloccare questo pedone nero in H5 e invece cattura subito. G per F6 ma Firugia non ricattura immediatamente, arriva la classica, come diciamo sempre, mossa intermedia fastidiosissima. Quindi qui c'è l'alfiere sotto attacco che vedete non può indietreggiare. Un'altra intermedia F per G7, qui naturalmente bisogna riprendere, quindi l'alfiere ricattura in G7. Ora però rimane il problema per Arikrisna di dove mettere questo alfiere. Quindi l'alfiere naturalmente si potrà spostare soltanto in F4 oppure in E5. Ora il bianco ha vinto un pedone e in questa posizione bisogna scegliere se tentare di conservare il pedone oppure rendere il pedone ma per tenersi una struttura pedonale migliore. Andiamo un po' a vedere entrambe le soluzioni. Alfiere in F4, vedete freccia gialla, quindi non giocata da Arikrisna, mantiene il pedone ma guardate un po' che cosa succede dopo cavallo per alfiere. Il pedone ricattura, il bianco però ha quattro isole pedonali. Una, due con addirittura i pedoni doppiati, tre e quattro isole pedonali. Sicuramente una struttura pedonale difficilissima da proteggere. Ritorniamo a noi e quindi in questa posizione giustamente Arikrisna porta il suo alfiere in E5. Cavallo per alfiere, certo che il bianco ha perso la coppia degli alfieri. Il pedone di ricattura e Firuja ha pure ripreso il pedone. Ora in questa posizione il bianco può anche cambiare i cavalli ma Arikrisna non lo farà. porta il cavallo in D4, vuole iniziare a mettere pressione sul pedone più arretrato perché questo non è un pedone arretrato, però sicuramente è il pedone più debole dello schieramento del nero. Quindi cavallo in D4 e qui arriva, torre in C8. Arrocco corto per il bianco. Ora pur avendo arroccato c'è sicuramente una debolezza per quanto riguarda il re bianco perché c'è la colonna aperta G, ma guardate che situazione peggiore che è il nero che probabilmente non arroccherà per niente perché a me sembra molto più sicuro il re su una delle colonne centrali che portarlo ad arroccare sul lato corto che sul lato lungo ormai è impossibile. Quindi arriva cavallo in C6 e qui alfiere in G4. Probabilmente Arikrisna vuole portare i suoi pezzi a proteggere il prima possibile questa debolezza ma in questa posizione sarebbe stato più utile cambiare per il bianco i cavalli lui in C6 perché adesso è il nero che cambia. Quindi il cavallo cattura in D4 non si può riprendere di donna perché c'è l'alfiere quindi bisogna riprendere di pedone D4 e è diventato un pedone isolato. Arriva torre in C6, quindi vedete si migliora la posizione della torre una nuova protezione contro il pedone debole stavolta veramente si può parlare di un pedone arretrato e qui il cavallo in E2. Arriva anche H3, quindi una spinta molto pericolosa e che preannuncia anche future minacce di matto qui sulla casa G2 e quindi per questo motivo arriva torre in C3. Torre in H4, ora il pedone, attenzione, non si può catturare naturalmente non si può catturare di torre perché altrimenti si perde l'alfiere con scacco ma non si può neanche catturare di alfiere perché sempre l'alfiere si perde. Alfiere cattura in H3 e come mai questa cattura è terribile? perché l'alfiere diventa un pezzo sotto attacco non difeso da un pedone ma difeso da un altro pezzo gli si toglie il difensore torre per torre qui bisogna riprendere la torre e questo alfiere è senza difese e quindi viene catturato. Ritorniamo a noi quindi torre in H4, non si può riprendere il pedone arriva torre in G3 che non soltanto protegge l'alfiere ma protegge tutta questa codonna G quindi Arikrisna è riuscito a trovare un buon setup difensivo. Donna in C7 ora veramente il bianco potrebbe catturare il pedone Arikrisna però non lo farà perché vedete se l'alfiere cattura in H3 è come se si chiudesse un po' la strada e la aprisse invece a questo alfiere campo chiaro del nero perché dopo l'alfiere cattura in H3 prende un po' vita oltretutto rallentando un po' il bianco perché inchioda il cavallo sulla donna ora è anche vero che la donna probabilmente si vorrà spostare ma comunque non conviene far attivare a Firugia anche il secondo alfiere già il primo è abbastanza fastidioso perché sta proprio guardando il pedone debole quindi dopo donna in C7 arriva torre in E1 sulla stessa colonna del re nero e guardando il pedone più debole quindi Firugia sposta il re in F8 ora mossa buona naturalmente io sinceramente l'avrei portato in D8 e qui arriva donna in D3 momento molto importante della partita perché Firugia fa una bellissima spinta di pedone E5 spinta di rottura al centro e qui che si fa? si cattura o non si cattura? andiamo a vedere che succede se il bianco cattura dopo D per E5 guardate che forza questo alfiere alfiere cattura in E5 e ora la torre non si può spostare se no si perde l'alfiere perdere la qualità in questa posizione vuol dire perdere la partita l'unica mossa è giocare F4 alfiere sotto attacco ma l'alfiere cattura in B2 e mi sembra che il bianco sia più scoperto di prima e che gli alfieri del nero siano sempre più pericolosi ritorniamo a noi infatti dopo E5 Ari Crisa non cattura ma gioca donna in A3 con scacco Firugia porta la donna in D6 quindi chiede il cambio donne e siamo al quizzone strategico perché qui non ci sono grosse tattiche in giro però è un quizzone che forse non ha risposta però sono interessatissimo a sentire le vostre riflessioni su questa posizione quindi il quesito è questo se foste il bianco le cambiereste le donne mettete pure in pausa guardate un po' la posizione e da voi la parola ritorniamo a noi io non le cambierei ma per il computer è meglio non cambiarle ma sapete che il computer dà scarti molto piccole in queste posizioni quindi non c'è da farci molto affidamento io non le cambierei se fossi il bianco perché mi sembra che il nero sta meglio l'unica vera pecca nella posizione del nero è questo re sicuramente più scoperto del re bianco quindi io mi terrei la donna sulla scacchiera questa posizione Arikrisna cambia le donne donna cattura in d6 con scacco la torre ricattura e finalmente casca il pedone h3 e per d4 ora attenzione perché questo anche se doppiato è un fastidiosissimo pedone passato guardate che accelerazione se spinge prende anche velocità e quindi Arikrisna giustamente lo vuole bloccare cavallo in c1 la manovra è per portare il cavallo in d3 e bloccare la colonna d e adesso il raddoppio delle torri sulla colonna h qui si rischia di perdere l'alfiere l'alfiere si deve spostare per forza naturalmente casca il pedone h2 alfiere in g2 torre cattura in h2 se dio vuole l'alfiere sta comunque proteggendo la casa h1 e qui il cavallo finisce la sua manovra il pedone passato adesso è bloccato e sappiamo che il cavallo è il miglior bloccatore si naturalmente vinto il pedone questa torre è soltanto una debolezza tattica perché un pezzo sotto attacco stavolta del re ma difeso da un altro pezzo quindi si toglie questa debolezza tattica in modo che entrambe le torri possano riattivarsi per nuovi obiettivi e qui arriva f4 ora qui c'è poco da fare qui un controgioco andrà pure trovato e quindi ari krisna pur se questa mossa è rischiosa avanza anche lui il suo pedone passato e dove lo avanza lo avanza nella zona in cui il re nero è sicuramente più scoperto quindi arriva f4 torre in c6 ma secondo me anche torre in g6 è fortissima per il cambio torri perché senza una torre prende ancora più vita questo alfiere e qui arriva alfiere in f3 torre sotto attacco si sposta in h6 e torre in g2 torre in g2 perché mantiene la protezione della colonna g ma oltretutto controlla evita l'invasione della torre in seconda traversa la torre si porta in g6 arriva anche f5 torre in h6 il bianco continua con cavallo in f4 quindi il pedone d5 due volte sotto attacco ma qui siamo al momento critico della partita perché firugia trova un'idea fortissima la spinta del pedone in d3 vero e proprio sacrificio di pedone ora qui conviene prenderlo e infatti Arikrisna lo catturerà con il cavallo ma questo sacrificio di pedone ha liberato per l'alfiere questa casa d4 infatti arriva alfiere in d4 con scacco e questo è uno scacco fortissimo qui bisogna stare attenti anche a come si posizionano i propri pezzi perché si rischia il matto in questa posizione spostare il re in f1 perde come minimo la qualità perché qui in questa posizione più forte dello scacco è questa infilata torre in h3 che quindi attacca entrambi i pezzi ora qui attenzione che non si può coprire il cavallo con l'alfiere se no veramente arriva la minaccia di matto e quindi come si protegge questo alfiere questo alfiere purtroppo si deve proteggere con la torre quindi si perde la qualità ma in una posizione del genere anche la partita perché se ritorniamo a questa torre in h3 se si tenta di proteggerlo con il re arriva torre in c2 con scacco il re si sposta e qui vedete c'è una semplice combinazione torre per torre l'alfiere ricattura e qui casca un pezzo anche con scacco quindi ritorniamo a noi dopo che è arrivato questo fortissimo scacco di alfiere l'unica mossa che tiene il bianco in partita è coprire il re con il cavallo quindi mossa giocata da Ari Krizna cavallo in f2 e qui arriva torre in c2 torre in c2 attacca per la seconda volta il pezzo inchiodato ma il pezzo inchiodato è già protetto due volte ma più che altro controlla intanto è come se bloccasse l'attività di questi pezzi bianchi che sono forzati a tenere la protezione di questo cavallo il cavallo continua a non potersi spostare viene anche attaccato il pedone b2 re in f1 schioda il cavallo ma ritorniamo indietro della mossa e come mai in questa posizione non tentare di proteggere questo pedone che sta per cadere andiamo a vedere che succede dopo torre in b1 non giocata da Ari Krizna il nero in questa posizione ha due idee vincenti la semplice torre in h4 e dopo torre in f4 attacca l'alfiere dietro l'alfiere c'è il terzo attacco al pezzo inchiodato e protetto soltanto due volte c'è anche un'altra idea ancora più carina che è alfiere in e3 alfiere in e3 libera l'avanzata del pedone passato adesso il bianco schioda il cavallo e il pedone inizia la sua avanzata d4 arriverà alfiere in e4 quindi ad attaccare la torre ma entra in gioco anche l'altro alfiere ora attenzione a non prendere matto quindi il re si dovrà spostare a proteggere questa casa h1 di nuovo ritorna inchiodato e arriva anche d3 il bianco è totalmente bloccato se arriva b3 arriva torre in h4 quindi alfiere per alfiere b per c4 la torre ricattura adesso si può tentare di attaccare il pedone passato ma qui arriva semplicemente torre in f4 il nero vince un pezzo anche se perderà il pedone passato non c'è problema vince un pezzo per il computer è meno 7 quindi ritorniamo a noi per questo motivo Arikrisna per sbloccare un minimo i suoi pezzi gioca la mossa più forte che è appunto re in f1 e naturalmente qui casca il pedone b2 torre cattura in b2 e qui arriva torre in e2 torre in b1 con scacco la torre ritorna indietro e qui arriva il raddoppio delle torri cavallo in d3 alfiere in c3 attacca la torre quindi forza il cambio delle torri torre per torre la torre nera ricattura in b1 con scacco e il re si sposta in f2 firugia inizia a migliorare la posizione del suo re quindi re in e7 torre in h2 e il nero continua con re in f6 re in e3 re in g5 giocato da da firugia forza era più preciso torre in b5 quindi a proteggere questo pedone ritorniamo indietro della mossa e come mai invece firugia non ha catturato questo pedone perché c'è un tatticismo dopo re cattura in f5 alfiere per d5 sembra che il bianco abbia perso un pezzo qui naturalmente l'alfiere deve catturare ma arriva lo scacco di torre per tenere il pezzo bisogna ritornare indietro con il re ma arriva lo scacco e forchetta cavallo in f4 con scacco il re si sposta e la torre cattura con scacco re in c6 e qui però anche se il nero ha un vantaggio non è tanto semplice vincere questo finale quindi ritorniamo a noi quindi dopo il re in e3 sta ben attento firugia a non semplificare troppo arriva re in g5 abbiamo detto ancora più preciso sarebbe stato proteggere il pedone e qui arriva il salto del cavallo in c5 ora naturalmente uno dei bersagli diventa b7 e qui arriva torre in b5 torre in h7 l'alfiere si sposta in g8 e adesso torre in c7 perché qui naturalmente non si poteva catturare il pedone con la torre se no si perdeva il cavallo non si poteva catturare il pedone con il cavallo perché c'era questa torre sotto attacco adesso che il cavallo è ben protetto e che la torre è fuori pericolo alla prossima mossa casca il pedone casca il pedone ma intanto casca pure f5 il re cattura f5 cavallo cattura in b7 qui arriva d4 con scacco quindi il pedone avanza con tempo qui la situazione è complicatissima dove spostare questo re sembrerebbe che metterlo di fronte il pedone sia la soluzione migliore come mai però Arikrisna non ce lo mette andiamo a vedere che succede dopo re in d3 che arriva anche re in f4 con tempo l'alfiere se l'alfiere vuol rimanere un minimo offensivo e si sposta in e4 arriva la cattura dell'alfiere in a2 e dopo da dietro si vince il pezzo quindi situazione complicatissima d4 con scacco Arikrisna porta il re in f2 e qui arriva torre in b2 con scacco alfiere in e2 non si può avanzare per vincere il pezzo perché si perde l'alfiere quindi ci si complica la posizione e quindi semplicemente Firucia migliora il suo re e non si può dare scacco da dietro perché c'è l'alfiere quindi probabilmente in questa posizione disperata quindi a gioco corretto non si non si tiene più questa difesa forse in questa posizione torre in c8 non era neanche una cattiva idea invece Arikrisna gioca il cavallo in d6 alfiere in d2 vedete l'alfiere si vuol portare in e3 con scacco re in f1 torre in b1 con scacco e qui secondo me si può già abbandonare arriva una mossa che sembra assurda alfiere in d1 quindi pezzo in presa che verrà cattolata con scacco ritorniamo indietro di una mossa e come mai perché dopo re in f2 ma anche re in g3 è già matto forzato arriverà alfiere in e3 con scacco re in g2 arriva anche dall'altro alfiere re in h2 ma anche re in h3 prende matto con torre in h1 quindi ritorniamo a noi torre in b1 ormai la partita è persa quindi Arikrisna si vede gli stava antipatico questo alfiere lo sacrifica alfiere in d1 e ancora più forte che catturare l'alfiere arriva d3 non ci sono scacchi vedete il pedone è potuto avanzare perché l'alfiere protegge tutto e adesso il matto è veramente forzato qualsiasi tipo di controgioco potrà provare il bianco andiamo a provare come dicevamo prima torre in c8 ma non c'è proprio più tempo arriva torre cattura in d1 con scacco di nuovo il re è entrato in questa rete di matto re in f2 alfiere in e3 con scacco re in g2 arriva il secondo alfiere re in h3 torre in h1 scacco matto non sarà stata una partita spettacolare ma una vittoria assudata ed importantissima sì Firuja si prende il punto e da 17 anni si porta da solo al comando del Tata Steel ci sono però altri 5 turni da giocare con un Karzen forse fuori dalla corsa per il titolo ma sicuramente indiavolato e minavagante del torneo dietro Firuja a mezzo punto di distanza altri due giovani fortissimi Ezipenko e Van Forest poi naturalmente insieme a loro il numero 2 del mondo Karuana che lo scorso anno ha già vinto il Tata Steel ed il vecchio Volpone Anish Giri spero che la partita vi sia piaciuta se vi è piaciuta non scordate il like che fa sempre bene al canale ma soprattutto non scordate di iscrivervi grazie tante per l'ascolto e ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti